Anche sotto l'aspetto del patrimonio aziendale, l'IT Holding ha avuto sempre più di qualche difficoltà. Di liquidità in cassa il gruppo praticamente non ne aveva. Quando ha chiesto l'amministrazione straordinaria, disponeva di meno di 20 milioni di euro. In compenso aveva un magazzino, ossia merci in piacenza, di importo davvero rilevante. Ben 140 milioni di euro di merci in deposito, pronte alla vendita, con un incremento nel solo 2007 di ben 12 milioni di euro. Queste merci erano così suddivise. 34 milioni di euro di materia prima, 20 milioni di euro in semilavorato e ben 86 milioni di euro in prodotti finiti pronti per la vendita. Tutto questo nonostante una svalutazione del magazzino per oltre 5 milioni di euro, 5,889 milioni di euro per la precisione. Ora, qual è il problema del magazzino? Il punto è che l'ingremento del magazzino in un bilancio è considerato la stregua di un aumento di fatturato. però di vendite non si tratta, o non si tratta ancora, per cui, specie per cifre tante importanti, anche un incremento del magazzino troppo ottimistico significa dare una rappresentazione del bilancio diversa da quella che poi sarà in realtà. Un esempio per spiegare meglio questo passaggio. Nell'esercizio 2007, IT Holding ha chiuso con un utile netto di 4 milioni di euro, con un aumento del magazzino di 12. Se poi questo incremento di magazzino si fosse rivelato nel 2008, in parte non più realistico perché non si fosse tradotto in vendite per un motivo o per un altro, l'utile del 2007 a quel punto non sarebbe stato più tale. Un altro problema importante di IT Holding è quello che tecnicamente si chiama qualità dell'attivo. Come abbiamo visto l'azienda, per uscire dalle secche, di essere un mero licenziatario di griff di proprietà di altri, in pratica un mega terzista, e questo business ancora pesa per quasi 500 milioni di euro di fatturato, con licenze come Cavalli, CNC Costume National, Versace Jeans Couture e Versace Sport al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria, l'azienda bene ha fatto degli acquisti, il più importante dei quali è stato già ricordato è stato quello di Gianfranco Ferré. Ma come si legge nel bilancio dell'azienda, alcuni di questi acquisti, essenzialmente Ferré e Malo, sono stati considerati a vita utile indefinita e quindi non sono stati soggetti negli anni a svalutazioni di valore, secondo il procedimento tecnico definito ammortamento. Siccome la quota di ammortamento è un costo e appesantisce il bilancio di un'azienda, riducendone il suo utile, c'è da interrogarsi se una tale scelta si sia rivelata azzeccata. Tale decisione, dice il bilancio, è stata presa alla luce della storicità dei marchi, della loro forza sul mercato e dei continui investimenti pubblicitari. Il marchio Gianfranco Ferré è in pancia di T-Holding per 149 milioni di euro, mentre Malo per altri 15. Ma Gianfranco Ferré, del quale è scomparso il fondatore figura carismatica proprio nel 2007, produce solo 7 milioni di risultato operativo in positivo, mentre Malo, che probabilmente non ha neanche l'appeal della griff di uno stilista di grido, ha perso nel 2007, come abbiamo già visto, 10 milioni di euro. Eppure T-Holding non solo non ha svalutato questi marchi, ma anzi, come si legge nel bilancio 2007, era assolutamente ottimista rispetto alla loro resa. Intanto era facilmente riscontrabile anche la tensione finanziaria del gruppo, oltre 200 milioni di debiti commerciali, quindi a parte le banche e gli istituti finanziari, di cui 46 milioni verso i fornitori, 64 per consulenti non meglio specificati e altri quasi 64 milioni verso i terzisti. Gli stessi sindaci della società, peraltro, qualche perplessità sull'aspetto finanziario in sede di resoconto gestionale inviato all'Assemblea, l'avevano pure manifestata. L'entità degli oneri finanziari sul fatturato, 5,59%, può provocare, si legge nella relazione, effetti negativi sul percorso di crescita della società, previsione che oggi sembra quanto meno eufemistica. L'attività operativa del gruppo è servita per lo più al pagamento degli oneri finanziari, come abbiamo già visto. Ma a parte questo, il collegio sindacale è sicuro, si legge, che la strada intrapresa sia quella giusta e che gli obiettivi ambiziosi, sia in termini di tassi di crescita del fatturato che di contenimento di costi, nel suo complesso appaiono coerenti con il mercato di riferimento, con la struttura della società e con le sue potenzialità. Così chiudevano la loro relazione tre sindaci, costo dell'organismo 273 mila euro complessivi, il presidente Angelo Rocco Bonissoni e i due effettivi Simone Feig e Marco Giuseppe Maria Rigotti, dando il loro via libera al bilancio dell'esercizio 2007. A distanza di un anno evidentemente qualcosa, purtroppo, non è andato per il verso giusto. Consigliere Scarabbeo, no, perché lei è anche un ottimo imprenditore, quindi noi abbiamo detto nel servizio che la crisi ha danneggiato tutti, dal piccolo negoziante fino alla grande azienda, abbiamo visto anche un po' il fatturato e ci siamo detti che anche altri colossi hanno resistito, secondo il nostro approfondimento sono state alcune scelte sbagliate a rinfluire ovviamente su questo crack. Lei da imprenditore, da uomo politico, insomma che idee si è fatto su questa azienda? Ma guardi, io sinceramente non ho intenzione assolutamente di inserirmi in un discorso amministrativo e quindi di natura imprenditoriale del contesto ITR, anche perché la conosco marginalmente è da qualche settimana a questa parte, sto cercando tra mille difficoltà di acquisire un po' di dati. È chiaro che noi ci troviamo, questo detto con obiettività, di fronte a degli imprenditori, anche il cronista prima lo diceva in maniera abbastanza chiara, plurirecidivi, quindi questo in impresa, come poi del resto anche nel sistema giudiziario qualcosa significa. Partendo dagli anni Ottanta con la Patentrem per poi passare successivamente alla GTR e poi immediatamente dopo insomma con la questione ITR. Dal punto di vista tecnico è chiaro che mi sorge e sorge a me stesso qualche perplessità, visto che stiamo parlando di una società che è quotata in borsa, fino a qualche mese prima sventolava ai 420 nuove aperture, se ricordo bene parlava anche di showroom in Cina, parlava di interessanti investimenti per quanto riguardava il discorso azionario e ci siamo ritrovati poi immediatamente dopo con un decreto immediato dove è stata sancita l'amministrazione straordinaria. Ecco poi ci arriveremo sul fatto della Borsa. Essendo una società quotata in borsa è chiaro che si presupponeva anche un controllo stesso. La domanda era anche un po' provocatoria, lei non fattura 600 milioni di euro e non è nemmeno fallito, insomma questo da imprenditore. Ma guardi io andrei anche un attimino un po' oltre perché l'imprenditore deve fare impresa, la politica deve fare politica e il politico attraverso lo strumento politico deve cercare in qualche modo di erogare servizi. Da qualche anno a questa parte qui ci ritroviamo di fronte a un'economia che spesso a mio modesto avviso è anche un'economia virtuale dove si vogliono addossare delle responsabilità a quello che è il governo regionale e quella che è la classe dirigente del momento. È chiaro che la politica deve avere ed ha le sue responsabilità, però entrare ogni volta in merito a determinate questioni di natura imprenditoriale e non mi riferisco nel caso particolare dell'ITR perché è una situazione un attimino un po' diversa, ma forse mi riferisco a qualche altra azione che qualche imprenditore sta cercando di richiedere alla nostra regione debba in qualche modo essere anche circoscritta e gestita in maniera diversa rispetto ai periodi precedenti. Ci ritroviamo di fronte a quella che è una situazione a mio modesto avviso preoccupante perché non sono solamente 700 addetti al rischio ma sono anche gli oltre 1200 fasonisti addetti nel terziario, nei servizi dell'ITR che sono a grosso rischio e sono quelli che poi sostanzialmente stanno anche rischiando di più in questa vertenza ITR, sono quelli che stanno rimettendo del proprio, sono quelli che hanno rilasciato delle fiduzioni bancarie, sono quelli che la notte non dormono e sono quelli che non sanno che futuro garantire ai propri figli e alle proprie attività. Ed è chiaro che noi come classe dirigente di questa regione abbiamo soprattutto il dovere di intervenire in maniera determinata e chiara su determinate questioni che hanno una valenza molto più ampia e significativa rispetto a quella che qualche mass media in qualche modo può esternare all'esterno. Ecco, arriviamo ovviamente, abbiamo ascoltato il dipendente che ci dice che non si avvertiva nulla, ovviamente il terzista che dice qualcosa si cominciava a ravvisare però ancora non abbiamo preso una vera e propria decisione anche perché l'animo buono molisano, la testa ardangine, il fatto di comunque avere azienda a volte qualcuno in generale ci gioca molto.